Salve a tutti, eccoci con un altro argomento, uno dei tanti che oramai andiamo trattando suggeriti un po' da voi, un po' dalle circostanze, un po' da quello che si vede nei giornali e ovviamente alla televisione perché in televisione ci troviamo. Anzi vi invito se avete degli argomenti da suggerire ben volentieri, ben volentieri qualunque sia il vostro interesse, la vostra propensione siamo a disposizione, sono a disposizione per trattare da un punto di vista psicologico e personale qualunque genere di argomento. Oggi parliamo della infatuazione, appunto. Cos'è l'infatuazione? Di cosa si tratta quando intendiamo enunciare questo termine? L'infatuazione è uno stato di profondo innamoramento, di invaghimento rispetto a generalmente una persona ma potrebbe anche trattarsi di un argomento, un'infatuazione politica, un'infatuazione letteraria che ai tempi di Goethe era ovviamente molto frequente oppure di Thomas Mann molto frequente, adesso è praticamente scomparsa. Esiste casomai infatuazione verso un personaggio cinematografico oppure verso qualunque altro genere di celebrità mediatica, per così dire. Però l'infatuazione che più ci interessa, che più si rende tangibile è certamente quella verso un nostro simile. L'infatuazione molto spesso, vi invito a considerare, precede l'allestimento di una coppia. Infatuarsi di un nostro simile è quasi sempre qualcosa che è il preludio alla formazione di una unità globale nucleare che è appunto la coppia. In ogni caso tutto inizia con una infatuazione. Perché avviene una infatuazione, quindi un invaghimento rispetto a un uomo o una donna nostro simile? Ci sono molte risposte interessanti, prendiamone qualcuna. Innanzitutto quella persona ci dà quello che ci serve, ma vi prego di darmi attenzione perché non sempre quello che ci serve è la felicità. Quante volte noi vediamo persone che formano coppie una dietro l'altra infelici con soggetti destinati a fargli vivere appunto la infelicità, la frustrazione, la disperazione addirittura a volte. Generalmente, fortunatamente non è così e quando una coppia si forma, appunto dopo questo colpo che assale l'intimità personale è perché tutti e due intendono essere felici e soprattutto intendono dare felicità all'altra persona. Infatuarsi di qualcuno significa non leggere più la perfetta realtà. Significa chiaramente vederlo al di sopra delle possibilità di scelta, perché si è già scelto. Si è scelto lui o lei che sia, perché in quella persona intendiamo da quella persona trarre tutto quello che si desidera. e aggiungo la speranza è che quello che si desidera sia il nostro bene il suo bene e non qualcosa che invece può essere davvero pericoloso se non altro per la nostra tranquillità di vita. Spero di essere stato chiaro su questo punto ma lo ribadisco. Essere alla ricerca di qualcosa e non sapere di tutto questo significa a volte andare a cercare guai nella vita.